ACMA è un'azienda del gruppo Coesia, specializzata nell'ingegnerizzazione e nella realizzazione di macchine automatiche per il packaging nel settore dell'home and personal care, confectionery e nel tè. Oggi è parte del gruppo Coesia, una multinazionale nell'innovazione nel mondo del packaging che conta circa 8.000 dipendenti, 86 impianti produttivi, 140 unità operative in 36 paesi. Per ACMA, efficienza e sostenibilità significa offrire al cliente macchine con caratteristiche adeguate in termini di consumo energetici e di gestione dei materiali green. L'industrial IoT per ACMA è uno dei passaggi chiave per l'evoluzione nel processo di digitalizzazione. Digitalizzazione porta con sé anche un aumento della robotica e dell'automazione, ambito su cui ACMA avverte la necessità di affiaccarsi a partner solidi come Snider Electric. La soluzione ACMA Smart Handling è basata su un'architettura PAC Drive 3, costituita da un controllore LMC 902 e azionamenti Lexium 62, che pilotano con potenti algoritmi i Delta Robot Serie B. EcoStructure è nativamente aperta alla comunicazione e ci consente di integrare tecnologie digital sviluppate dal gruppo Coesia, come ad esempio Optimate, uno smart HMI per la gestione facile ed intuitiva delle macchine. In più è presente il Machine Expert Twin, il gemello digitale. Ideato per gestire le varie fasi di vita della macchina, dalla progettazione alla messa in servizio, fino alle varie fasi del post vendita. I benefici che abbiamo ottenuto grazie all'utilizzo di EcoStructure sono quelli di aver massimizzato la modularità e la flessibilità, aver minimizzato il footprint e aver garantito la production performance e lo speed up del time to market. ACMA e Schneider Electric collaborano da ormai 20 anni su sistemi di elettronica e di automazione. La nostra partnership è consolidata grazie alla possibilità di accesso a loro portafogli di prodotti e servizi che ci supporteranno nel nostro percorso verso una continua e sempre più intensa digitalizzazione, automazione ed attenzione alla sostenibilità. Grazie a tutti.